Ciao a tutti, ben ritrovati su Twister Android per un nuovo video. Io sono Tiele ed oggi vi parlerò di un gadget ideale per la vostra schifania. Chissà quante volte hai scartellellato di store online come Amazon alla ricerca di un supporto per fotocamera da tavolo per la tua schifania senza mai trovare quello che faceva per te, ma fortunatamente ho la soluzione giusta. Sì, dopo diverse ricerche ho trovato il supporto per fotocamera da schifania realizzato dalla TAR. Quello che mi ha fatto propendere il supporto da tavolo della Tyron è stato in moto sul sito dell'azienda che è riuscito a così. Tyron è stato costruito attorno all'idea che niente è perfetto, ma tutto può essere migliorato. Alla ricerca della perfezione, la nostra forza sta nel migliorare e dotare i prodotti esistenti nel settore della fotografia e degli smartphone. Che si tratti di accessori per fotocamera o gadget per smartphone, forniamo apparecchiature di alta qualità per i due dispositivi preferiti. Lavoriamo continuamente per migliorare e innovare i nuovi prodotti per amatori e professionisti di tutto il mondo. Ci dedichiamo soprattutto ai giovani che stanno acquistando i loro primoghi di attrezzature. Prendiamo questa introduzione nel mondo della fotografia e del cinema come una grande responsabilità e speriamo di fornire prodotti di qualità ad un prezzo e più. Un testo, devo dire, sicuramente di impatto per chi si imparte sulla pagina e buttas del loro sito. Come direbbe il grande parzullo, la domanda sorge spontanea. Mantengono quello che promettono? Vediamo se davvero è così. Prima di iniziare vi ricordo che se volete vedere altri contenuti di questo tipo, non dovete far altro che lasciarmi un commento qui in basso. Come sempre partiamo dall'unboxing del prodotto. Il supporto da tavola per fotocamera targato Tyron giunge in una scatola di cartone con sovra impresso non solo il nome dell'azienda, ma anche una raffigurazione del contenuto. Un packaging un po' anonimo senza frizzoli ad indicare l'essenza dell'azienda. Aprendo la convenzione troviamo il nostro supporto avvolto in un invorlo di plastica, un popparco per i miei gusti, avrei preferito una protezione in gomma a piuma o del materiale morbido dove adagiare il supporto per evitare danneggiamenti da ulti o cadute accidentali durante il trasporto. Spero vivamente che in un prossimo futuro Tyron provvi dato un packaging diverso da questo. Come ben saprai molto spesso sono i particolari a fare la differenza dei prodotti. Prima di proseguire vi ricordo che se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace al video e condividetelo per far sì che maggior numero di persone possa spenderlo. Mi raccomando. Il supporto della tavola della Tyron è realizzato in liga di alluminio, il tubo estensibile con la base di montaggio con un morsetto a C in anciaio e un morsetto in plastica che rendono il tutto molto robusto e stabile, grazie anche alle viti presenti che consentono di ancorarlo saldamente alla nostra sprimania. Il supporto della tavola della Tyron è in grado di estendersi in altezza fino ad un massimo di 60 cm, mentre l'altezza minima è di soli 35 cm. Niente male per un gadget che ci permette di liberare spazio sulla nostra sprimania con minimo incontro su cui realizzare la nostra fotocamera con una Ring Light o LED o il nostro smartphone per fare video su YouTube manoscuro. Inoltre all'interno della traduzione vi anche una testa aspira ruotabile di 360 gradi per regolare con estrema velocità l'angolo di ripresa o posizionare. Come meglio vogliamo una Ring Light. Il supporto è provvisto anche di una vide da un quarto di pollice per poter fissare il supporto per smartphone o la nostra fotocamera direttamente a quest'ultima, senza un altro ausilio in tutte. Potremmo utilizzare il supporto a tavola anche come statico, purché non superi 4,5 kg di peso e il peso massimo supportato. La base di montaggio con morsetta cina acciaio è provvista di un'altra forma, per non danneggiare il tavolo o l'ostrimania sui quali andremo ad ancorare il supporto della terra. Considere di controllare quindi il rivestimento, perché qualche semplare non è perfetto da qualche OLED in giro. Per una maggior sicurezza o fragilità della nobile, ti suggerisco di incollare dei fertini alle due estremità. Abbondare quello che è difficile, dicevano gli antichi. Il supporto della tavola della Tyron pesa 4,5 kg. Disponibili sullo store Tyron, molto spesso sotto i 20 euro, mentre sullo store Amazzo è facile trovarlo sotto i 30 euro. Come sempre qui in basso vi lascio i link all'acquisto nel caso siete interessati ad acquistarlo. Dopo avervi parlato delle caratteristiche tecniche e della dotazione è arrivato il momento fatidico di farmi sapere la mia opinione in merito. Dopo averla doperato per diverso tempo e messo sotto stress quasi quotidiamente, sono rimasto piacevolmente soddisfatto. Svolge leggermente il suo compito, premento che l'ho utilizzato esclusivamente con la mia Sony Asimila e il mio smartphone. Non mi sono avvalso di alcun altro supporto per i miei test per paura che non potesse supportare il peso. È realizzato con materiali di buona qualità e offrire un buon rapporto prezzo qualità. Termi per il serraggio sono realizzati in plastica dura che danno una buona sensazione di resistenza, ma per evitare che si possano rompere consiglio vivamente di non forzarli. Consiglio inoltre di utilizzare il supporto da tavola con prodotti leggeri come smartphone e mirrorless non troppo pesati, anche se l'azienda assicura che può supportare prodotti fino a 4 kg e mezzo. Se ne avete un supporto da tavola? Se si quale scrivetelo qui in basso nei commenti. Credo di avervi detto tutto quello che c'era da sapere riguardo al supporto da tavola per smartphone della Tyron, ma se avete dubbi o domande o semplicemente vorrei togliere delle curiosità non dovete far altro che lasciare un commento nella descrizione del video e io vi risponderò quanto prima. Adesso ragazzi come sempre tocca a voi vi chiedo un grandissimo supporto con un bel like a questo video, condividetelo con i vostri amici se ne avete voglia. Se non l'avete già fatto vi ricordo di iscriverti al canale attivando le notifiche e il modo migliore per sostenereci e poter offrire contenuti sempre più interessanti. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi di cura per aver guardato il video, non perdetevi il prossimo, ciao da migliore e rimanete sintonizzati con Twister Outro. Ciao!